C'erano anche Francesca Pascale, Alessandro Cecchi Paone, Monica Cirinna e il senatore Sandro Ruotolo al Vesuvio Pride. Il corteo è organizzato ieri a Torre del Greco dalla comunità LGBTQIA+. L'evento rientra tra le tappe dell'Onda Pride, la manifestazione organizzata da Archiei e dalle altre associazioni locali e nazionali che tocca più città italiane. Il Pride è partito da Piazza Santa Croce con un lungo serpentone che ha coinvolto diverse centinaia di persone provenienti da tutta l'area vesuviana e da Napoli. La musica ad alto volume, proveniente da un camion carro, seguito dai manifestanti, ha animato l'evento che ha toccato i temi dell'educazione e dell'inclusività con un particolare focus contro l'omofobia. Uno dei momenti chiave è stato il ricordo di Ciro Perna, il giovane studente disabile dell'istituto Pantaleo di Torre del Greco, che è deceduto qualche giorno fa, dopo essere caduto dal secondo piano della scuola che frequentava.